Ciao ragazzi, io sono Massimiliano e io sono Anna e oggi abbiamo deciso di fare questo video per comunicarvi quello che secondo noi è l'amore. Noi siamo sposati dall'agosto del 2019 e stiamo insieme da 16 anni e il simbolo che abbiamo scelto per comunicarvi un messaggio così grande, così importante, è questo quadro che raffigura le mani di due persone che si stringono e si danno forza alla vicenda. Sì, appunto questo è un disegno che ho fatto io, appunto ispirandomi a quello che è la nostra storia che dura da tanti anni e sono in sostanza le nostre mani che, come dice Massimiliano, si stringono per darci conforto, per accompagnarci nei momenti che abbiamo deciso di trascorrere insieme e di costruire in questo lungo cammino che è l'amore, ma anche per consolarci, per darci forza, perché in sostanza l'amore è questo, è esserci l'uno per l'altro ed è darsi forza e sostenersi sempre e comunque anche quando ci si può, ci si arrabbia, non lo so, alla fine si fa la pace. Questo è l'amore. Questo secondo noi è l'amore e con questo salutiamo tutti.